Grande investimento della Regione Lombardia che è pronta a finanziare la creazione di piste ciclabili sul Cremonese con una cifra davvero importante, 1.150.000 euro su un costo complessivo di 2.300.000. Il finanziamento è per la realizzazione di piste ciclabili che vadano a completare la rete regionale. In particolare il progetto riguarda la pista interregionale Brescia-Cremona, quella della Migliaro via Bergamo via Filsi, quella cittadina di via Brescia, via Mantua e del Ring interno via Le Trento Trieste. Il finanziamento del progetto cremonese si colloca all'interno del piano complessivo di Regione Lombardia che ha segnato oltre 19 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di 169 km di percorsi ciclabili su un territorio di 42 comuni, comuni e parchi regionali che dovranno completare i 20 progetti entro il 2020.